...come loro, troppo soffici. Perdonaci. Ah, la cavalca macchine ci grazia della sua presenza. Sei una Nora, vero? Una guerriera delle terre selvagge. Le terre sacre. Eh sì, ho lottato per arrivare fin qui. E, dimmi, i Nora si infilano spesso nelle case altrui per fare i loro comodi? Certo che no. Eppure è quello che fai tu, proprio ora. Appesti la loggia, infastidisci chi è migliore di te. Non sei migliore di me. Devo passare da te per diventare un membro. Ed è così, ma tu non hai alcuna possibilità di diventare un membro. Sei solo una selvaggia. E nessun selvaggio scalerà i ranghi della loggia dei cacciatori finché io sono falco d'oro. Ora vattene. No. Mi è stato detto che ci sono regole qui. Se non contano nulla, neanche la tua posizione vale niente. Quindi rilassati e dimmi. C'è un falco disposto a farmi da mentore? Molto bene. Talana è libera. Una coppiata perfetta. Feccia insieme alla feccia. E ora sparisci da qui. Credo di essere stato... Sei tu, Talana. Assis ha detto che sei un falco senza implume da sostenere. Oppure vuoi allontanarmi anche tu? Vabbè, ne ho passate di peggio. Non ne dubito. Ma ti sbagli. Non va bene. Soprattutto oggi. Cos'è successo? Fauci Rossi ha ucciso uno dei nostri. È il divoratuono più pericoloso di tutti. Fa pezzi alberi, rocce. Persone. Mi dispiace davvero. La caccia è così. In questa loggia si va davvero a caccia. Finora ho sentito solo parole. Sì, ma certo. Affronti una macchina. Poi ne porti il trofeo ad Assis. E nessuno negherà la tua impresa. Assis, chi è di preciso? Il falcodoro della loggia. Il membro più idiota... Scusa, importante. Ha abbattuto razziatori, inseguitori, colossi. Quindi? Io ho abbattuto molte macchine. Anch'io. Perfino due avi stempesta. Ma lui ha portato i trofei per primo. È così che funziona. Il falco che sconfigge la macchina più grande diventa falcodoro. Come si diventa un falco? Quando un falco muore, il suo turdido prende il suo posto. Anche se gli altri non vogliono. Dimmi chi è Ligan, l'uomo all'ingresso. Ligan? È un falco. Ai suoi tempi era davvero bravo, ma... Non combatte più. Sostiene la loggia in altri modi. Al contrario di altri, che si aggiudicano le prade migliori e si scolano tutto. Io sono pronta, quindi dimmi. Che devo fare? Vorresti per caso fargliela pagare? Allora parla la loro lingua. Uccidi tre secodonti, due razziatori e un inseguitore. E porta i trofei direttamente ad Assis. Basterà a zittirli. Mi farai da mentore? Se lo faccio, ci penserò. Potrei far arrabbiare Assis. La salvatrice del re sole. Di sicuro avrà i marchi. Molto bene. Congratulazioni e benvenuta. I nostri membri affrontano imprese e avventure diventando leggenda. Ora sono un membro? No, sei un implume. I membri giovani si chiamano turdidi. Per unirti e diventare un turdido, serve che un falco ti faccia da mentore. Quindi devo trovare un falco? Sì, ma un falco fa da mentore a un solo cacciatore alla volta. E temo che la maggior parte sia già impegnata. Ho avuto problemi peggiori. Da dove inizio? Da sopra. Va e mostrati al falco d'oro Assis, il capo, che ti presenterà un... Cosa significa? Lo vedrai. Sì, ma questo non è sembra. Troppo influenzato. Cosa cosa sarà? Sì, ma cosa cosa sarà? Sì, ma cosa cosa sarà? Grazie a tutti.